Discarica abusiva all'interno del porto di Catania Per non parlare ci sono molte coperture dei tetri Per non parlare l'interno del porto di Catania Il pescatore purtroppo non è neanche un posto dove poter riparare le reti E poi non essendoci cassonetti per la raccolta differenziata e non potete immaginare Mancano i servizi igienici e poi ce n'è uno qua abbandonato Grazie 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 Grazie